Ricordi, emozioni, ideali e tanto coraggio. Anche oggi, come accade da 79 anni, la città ha voluto ricordare la fucilazione di Venanzo Gabriotti. Il Tifernate fu il punto di riferimento della resistenza in tutta l'Alta Valle del Tevere Umbra e Toscana. Proprio per questa attività clandestina contro l'occupazione tedesca e fascisti, fu tratto in arresto e fucilato il 9 maggio 1944. E come sempre ci sono stati due momenti tanto toccanti quanto emozionanti nelle celebrazioni promosse dal Comune, dall'Istituto di Storia Politica e Sociale Gabriotti e Ampi Città di Castello. Il primo alle 8.30 al cimitero monumentale dopo la messa nella Cappella dei Martiri della Libertà, quando c'è stata la deposizione di una corona al monumento dedicata ai caduti. Il secondo sul greto di Torrentesca Torbia, dove Gabriotti fu ucciso da un plotone di nazisti e di fascisti e dove oggi si trova il parco civile intitolato a suo nome. Qui si sono ritrovati Alvaro Tacchini, presidente dell'Istituto di Storia Politica e Sociale Gabriotti, Anna Maria Pacciarini, la presidente della sezione Tifernata dell'Ampi, i rappresentanti delle associazioni combattentistiche, le autorità istituzionali, militari, civili e religiose. Insieme a loro i bambini che hanno depositato una corona al cippo. I canti sono stati eseguiti dai cori dei più piccoli, del primo e secondo circolo didattico di Città di Castello. Successivamente c'è stato, in piazza Gabriotti, è stata deposta una corona sulla torre civica. Quindi, nella sala consigliare di comune, si è svolta la prima azione del concorso indetto per le scuole.